Siamo arrivati a Pasqua e l'abbiamo visto, ho sentito nel Vangelo, le donne che cercavano il cadavere di Gesù non lo trovano, trovano il sepolcro vuoto e prima non credono ai loro occhi, non sanno dove è finita la salma, ma alla notizia dell'angelo, che lui non è più tra i morti ma è risorto, credono e vanno via di corsa per divulgare la notizia. Una bellissima immagine che ci mostra come un luogo di morte, ecco la croce, il sepolcro, un luogo di tristezza, diventa un luogo di vita, di vitalità. Queste donne sono piene di vitalità e vogliono diffondere la lieta novella. E' questo che ci vuole dire il mistero di Pasqua. Lì dove sembra che ci sia morte c'è invece la vita, la vita della risurrezione. Ed è infatti anche per noi che ci siamo messi in cammino in questa quaresima il messaggio finale. Chi si partecipa alla vita di Cristo e anche alla sua morte partecipa anche alla sua resurrezione. Nella vita nuova, scrive Giovanni della Croce, quando è giunta la perfezione dell'unione con Dio, come qui stiamo dicendo, tutti gli appetiti dell'anima, le sue potenze, le sue operazioni, che in sé erano operazioni di morte e privazione della vita spirituale, si mutano in divine. La sua morte si è mutata in vita, cioè la sua vita animale in vita spirituale. Infine, tutti i movimenti e le operazioni che prima l'anima possedeva del principio della sua vita naturale, nell'unione con Dio sono ormai mutati in movimenti di Dio. Infatti, l'anima come vera figlia di Dio è mossa in tutto dallo Spirito di Dio, come dice San Paolo nella lettera ai Romani, coloro che sono mossi dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Quello che vuole descrivere Giovanni nella croce è lo stato finale, diciamo, di conversione dell'uomo e di adeguamento dell'uomo stesso, della sua anima, a Dio che abita in lui. Quindi ogni movimento dell'anima, ogni sensazione anche, diventa in comunione con Dio. È una vita diversa da quella precedente, in cui noi dobbiamo sempre discernere e vedere cosa ci porta alla morte, cosa ci porta alla vita. In questa situazione di unione con Dio, dove la risurrezione è già in fondo compiuta, diciamo, nell'anima dell'uomo, tutta la nostra vita è mutata in vita di Dio, non soltanto vita con Dio, dice Giovanni della croce, in modo abbastanza coraggioso anche teologicamente. L'anima in questo stadio chiaramente ultimo, ecco, dell'evoluzione dell'anima umana, di avvicinamento a Dio, noi, tutta la nostra anima è assorbita nella vita divina. L'anima cammina sempre interiormente ed esteriormente come in festa e sente con grande frequenza nel palato del suo spirito un grande giubilo di Dio, come un canto nuovo, sempre nuovo, avvolto di gioia ed amore, conoscendo il suo felice stato. Scrive in un suo lavoro la fiamma d'amor vivo. Ecco, in questo stato finale di santità, l'anima ha anche il coraggio e la disposizione a guardare indietro, a considerare la propria vita e a riconoscere anche nelle zone più oscure la presenza del Signore. Quindi un canto di giubilo, di gratitudine verso le opere di Dio nella mia vita. Il Salmo 139 ci ricorda Se dico almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno, per te le tenebre sono come la luce. Questo è il messaggio finale di Pasqua. Le tenebre che possiamo passare durante la nostra vita non hanno l'ultima parola, L'ultima parola è la luce di Dio risorto, risorto anche in noi. Noi siamo diventati tutt'altro e ci riconosciamo in Dio. Cristo è veramente risorto, alleluia. Vi auguro quindi una buona Pasqua.